ciao a tutti ragazzi allora io non so cosa dire perché non so se voi avete visto il trailer allora ad agosto il 22 di agosto esce hotel transilvania 3 ve lo giuro io non so cosa dire voi sapete benissimo che come vi ho raccontato in un video che hotel transilvania è il mio zing zing di film perché ve lo giuro è bellissimo mi ha lasciato un casino quando l'ho visto la prima volta me ne sono veramente innamorata ve lo giuro e sono contenta che uscirà anche un terzo capitolo perché ho già visto qualche clip e qualche trailer su youtube e vi giuro che io devo andare a vedere la sua insomma io volevo dirvi questa cosa e se voi farete un tempo da andare al cinema a vederlo andateci quando potete perché non potete perdervi questo bellissimo cartone sui mostri mamma mia bene ragazzi ci vediamo e fatemi sapere se andrete a vederlo ciao ciao bla 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 Grazie a tutti